Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Siamo da Saturn perché oggi non c'è la fiera ma è iniziato a piovere, ci siamo imboscati a Saturn dicendo non portiamo a casa nulla, mi raccomando, mi raccomando, e nulla. Però vabbè, ne ha speso i nostri soldi anche questa volta. Tra l'altro c'era in esposizione il Huawei Watch, 449 euro, stava per portarne a casa 10 e nulla. No, no, sorry, non ce l'avevo, non in vendita. Quindi niente, però giornata un po' fiacca, oggi vediamo se riesco a farvi vedere dove siamo, la location è fighissima. Siamo ad Alexanderplatz, sì dai si vede bene. E nulla, abbiamo fatto il nostro giretto, aspettiamo che smetta di piovere, continuiamo a girare. C'è di HL, è pieno di DHL, saluto il mio amico di DHL se ci segue. E nulla, abbiamo fatto questo video selfie un po' per salutarvi e per non lasciarvi soli anche oggi che ci sarebbe spiaciuta. La fiera un po' ci manca ma devo dire che i ritmi della città sono meglio, quindi da questo punto di vista non mi fa. Sto più tranquilli. Sto più vengono forte. Sto più vengono forte. Sto più vengono forte e li mortacci. No, ma la sfiga. Volete dire qualcos'altro, raga? Belli, belli i negozi. Sì, c'è da dire che abbiamo guardato un paio di media, un paio di sub, in realtà la città non la stiamo guardando, andiamo in giro per i negozi. Mi sta un po' incazzando perché no raga se entro compro, se entro compro, se entro compro. Non hai preso il Mac. Non ho preso il Mac ma fatemi tornare a casa. Solo perché era Querti. Querti, sai, non Querti come lo voglio dire. E nulla, negozi bellissimi, giganteschi, la città anche molto carina, in realtà stiamo visitando anche la città Alexanderplatz, diciamo, molto moderna, però comunque una bella piazza. Buon raga, avete qualcosa da dire? Se no li salutiamo e ci vediamo al prossimo video, magari in mezzo alla city e non più in un negozio. Magari col sole, se ne è sacrazio di più. Il sole non esiste a Berlino, ragazzi. Ricordatevi che abbiamo visto noi, ce ne è poco. Poco, poco. Io ho freddo. Adesso vado a comprarmi una felpa, dai. Bella raga, ci vediamo allora da Itch and Them che compro la felpa. Ciao a tutti raga.